Intanto complimenti a Marica Tassinari, percorso sempre impegnativo come hai vissuto questo medio per modo di dire visto la tipologia del territorio qui a Bagno di Romagna non edizione, gran fondo del capitano. Ma il percorso qui a Bagno di Romagna è sempre molto bello, quest'anno tra l'altro l'avevano cambiato, c'era la salita del fumaiolo che è quella che hanno fatto l'anno scorso nel Giro d'Italia, è bellissimo, per una come me che gli piace la salita è veramente emozionante, un po' meno mi piace la discesa però è bella anche quella, le strade erano messe bene quindi è stata bella. I tuoi prossimi impegni in quanto a gran fondo? Ma quest'anno sinceramente penso che questa sia l'ultima, poi penso di andare al mare per quest'anno basta, il prossimo Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on!